Roberto Farnesi, il noto attore italiano, sta vivendo un momento di grande dolore per la recente perdita dell'amata mamma Maria Angela. L'attore è impegnato sul set del Paradiso delle Signore, nonostante il lutto non si è mai fermato con il lavoro anche per rispetto della memoria della mamma. L'attore nelle scorse ore ha rotto il silenzio dicendo, mi ha lasciato serenamente, avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale, così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita, si è preoccupata per me fino all'ultimo, mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all'ultimo nella sua casa proprio come.